Sabato dall'ora e quattordici in Piazza Brina la decima edizione del Carnevale a Quattro Zampe. Sì, sabato in Piazza Brina vi aspettiamo per la decima edizione. Mi ricordo sempre di Valentina, mia nipote, scomparsa nel 2011. Abbiamo anche quest'anno l'edizione nuova con l'introduzione dei giochi per i bambini che possono fare tantissime cose quest'anno, disegnare, costruire, incollare. Poi abbiamo la sfilata dei bambini, la sfilata degli animali. Ah, volevo dire, naturalmente tutti mascherati, sarebbe una cosa più divertente. E poi abbiamo diversi altri giochi, premiazioni con un pensiero per tutti, insomma. Oltre ai cani saranno protagonisti anche i bambini? I bambini sono i principali protagonisti, insieme ai loro amici, bambini, ai loro padroni, ai loro amici padroni, che parteciperanno alla sfilata. Verranno premiati tutti i bambini che partecipano alla sfilata, come tutte le mascherine che partecipano alla sfilata, perché non è d'obbligo venire con un animale. I bambini possono partecipare come senso di aggregazioni al carnevale che si svolge in Piazza Brini. È il carnevale che ricorda Valentina Pesarini, di cui qua c'è Barbara e suo fratello Marco, che sono i patroni di questo carnevale, gli unici veri patroni di questo carnevale. Perché questo carnevale è arrivato alla decima edizione, grazie a loro. Noi come Prospezia Ciazza Brini siamo entrati in due anni, insieme a loro, per dargli un aiuto, una collaborazione. E Barbara fa parte anche del direttivo di Prospezia Ciazza Brini, perciò è il fulcro di questa manifestazione qua. Oltre a queste cose, qua ci sarà anche la comunità domenicana, che parteciperà con la cioccolata calda, adonando a tutti i partecipanti. Speriamo che sia tante, che tutta finisca, la cioccolata calda a chiunque parteciperà. Non lo so già detto che nessuno andrà via senza un premio. Tutti i bambini e tutti quanti riceveranno un ricordo per il carnevale a quattro zampe. Noi di Prospezia Ciazza Brini ringraziamo la famiglia Pesarini, ringraziamo la provincia e il comune per il patrocinio che ci ha dato per questa manifestazione qua. E vi aspettiamo numerosi per riempire la piazza. La piazza deve vivere, la piazza ha bisogno di queste manifestazioni, la piazza ha bisogno di essere frequentata. Grazie.